Sono Franco Cernigliaro, responsabile Italia della Swarovski Optic. Siamo molto felici ovviamente di aver ricevuto questo premio per il primo classificato nelle categorie tecnologia con il nostro Z8 3.5 28x50, un voto espresso da 3.500 persone, quindi vuol dire che il pubblico, sono i nostri utilizzatori, sono i nostri clienti ad aver votato e dato la preferenza al prodotto, persone che hanno capito che il 3.5 28x50 è un concentrato tecnologico di primo livello perché effettivamente è l'unico prodotto sul mercato ad avere un fattore 8 ingrandimenti in un tubo da 30 mm, cosa che tecnologicamente è estremamente sofisticato e complesso da realizzare che permette tra l'altro di praticare molti tipi di caccia grazie ad un'escursione di ingrandimento molto ampia da 3.5 a 28 ingrandimenti, per cui ringraziamo tutte le persone che ci hanno votato. Io personalmente ringrazio anche i miei colleghi della Swarovski Austria che hanno progettato e prodotto questo prodotto di altissima qualità che ci permettono oggi di essere sicuramente all'avanguardia ma anche i numeri 1 sul mercato. Grazie.